Giorgio gentili amici delle pianeta a tutto handball, tutto ciò che fa palla a mano da tutti i palazzetti d'Italia. Allora, innanzitutto una notizia, abbiamo intrapreso un accordo, uno scambio di mail sia con l'Olympic Massa Marittima che abbiamo incontrato domenica sera a Tavarnelle durante il match che abbiamo trasmesso in diretta sia anche col Follonica, per cui vedrete che entro brevissimo tempo il martedì pomeriggio diventerà il pomeriggio della palla a mano. Le tre partite intere, commentate, intervallate dalla trasmissione questa di a tutto handball delle ore 18 circa, dalla trasmissione dei motori dalle 19 alle 20, dalla trasmissione giovani pianticelli viola crescano dalle 20 alle 21, poi a settimane alterne chi comincia il pomeriggio passa in prima serata, chi comincia in prima serata passa il pomeriggio, chi comincia in seconda serata passerà una volta nel pomeriggio e una volta in prima serata. È il tempo di montarle tutte uno accanto all'altro. Dico e ripeto, per quello che io faccio di Tavarnelle, so che alla fine della partita le interviste poi le usiamo sia per la rassegna stampa del lunedì mattina fresca, sia come compendio di questa trasmissione. Per cui a casa Olympic Massa Marittima e a casa Pollonica, se voi durante le vostre trasmissioni che noi prendiamo dai vostri Facebook ci mandate o fate insieme alla partita subito dopo le interviste, noi ovviamente mandandovi le partite e mandiamo anche le interviste e poi recuperiamo l'intervista, la stacchiamo e la usiamo come compendio della nostra trasmissione a tutto Enbol. Messaggio trasversale, Euromed Mugello di A2 femminile, abbiamo trasmesso la partita l'altra sera, non è commentata, c'è una signora gentile che si intromette ogni tanto a darci il raguaglio del punteggio, però come voi capirete amiche di Borgo San Lorenzo, io vi voglio bene, lo sapete quanti bei ricordi mi leghino al Borgo San Lorenzo di Alessandro Gabbi del signore Bazzoni, quando io ho iniziato la mia attività di giornalista a Borgo San Lorenzo in casa Simiani, dovreste gentilmente trovare qualcuno che sia della squadra maschile o che sia una ragazza del femminile che perlomeno ci descriva le fasi salienti della partita che noi vi stiamo trasmettendo, ma andare per due ore o quello che è una partita dove non c'è commento, altro che come ho sentito quella gentile signora che ogni tanto si intrometteva, vi dava l'aggiornamento del punteggio, sono un pochino male, per cui se ci trovate un commentatore, ben volentieri noi vi teniamo e addirittura facciamo poker, le 3 del maschile e anche la vostra del femminile, determineremo come e quando e a che ora, va bene il messaggio l'ho mandato, allora cominciamo nel raccontare quello che è successo a livello di serie a Uro, dove purtroppo non c'è più l'Ego Siena, allora Sassari, Castanomagnago 29 a 24, Secchia Rubiera Fasano 25 a 34, Carpi Sparereppa Andiappiano 23 a 32, Brixen o Bressanone, Albatro Siracusa 34 a 24, Conversano Merano 30 a 22, Pressano Bozen o Bozzano 30 a 26, la classifica Fasano 15, Sassari 11, Conversano e Pressano 9, Brixen Alpenio Merano 8, Sparereppa Bozen 7 a 6, il Castanomagnago 4 per Trieste 2 per Carpi e Albatro e 2 anche per Secchia Rubiera. Andiamo alla 1 femminile, ottava giornata, i risultati che sono Alibestes Mestrino, Erice 30 a 16, ribaltato e raddoppiato, su Tirolem Brixen Salerno 26 a 26, il big match terminato in parità, Castanomagnago Pontinia 29 a 26, Ferrara Mezzocorona 35 a 27, Guerriere Leno, Guerriere Malo 26 a 24, Cellini Padova battuta in casa dal Padania 25 a 31, la classifica al femminile Brixen su Tirol 15, Giovi Salerno 14 con Alibestes Presto Mestrino, 10, Casagrande Padana e Pontinia 7, Padova Cellini 7, Erice 6, Cassano Magnago 5, Leno 4, Ferrara 2, Guerriere Malo e mezzo Corona. Andiamo a scalare con i risultati e i tabellini del campionato di serie A2 maschile l'andata per l'ottava giornata che vede i risultati di Ambra Poggia Caiano, Verde Azzurro Sassari 22, 28, primo tempo 12-13, Rigori 4 su 7 in casa, Ambra Poggia Caiano, Licese 8, D'Alessandro 2, Andrea Frattini 2, Dei da 7, Chiaramonti 3, allenatore Maraldi per il Verde Azzurro Sassari, Arteaga 1 gol, Zidaric 2, Cherosu 4, Vassia 4, Delogu 2, Biano 6, Sgarella 8, Manini allenatore Costo Rigori 3 su 4, Tecnocem San Lazzaro, Bologna Follonica 29 a 30. Allora andiamo a vedere la 2 maschile Girone B, andiamo a vedere quello che è la giornata di l'ultima giocata in serie A2, andiamo ad aprire la nostra videata che è questa, allora siamo a San Lazzaro Follonica, allora San Lazzaro che ha messo a segno 2 di Calistri, 2 di Rossini, 4 di Bozzoli, 3 di Norfo, 2 di Toschi, 5 Venturi, 2 Cimatti, 5 di Mei, 4 di Argentin, allenatore signor Antonio Jelic con i rigori 2 su 2, il Follonica che va a prendere punti in trasferta, come detto lo aspettiamo per diventare parte della famiglia di Atutto Handball sul canale 196 di Tele Firenze Viola Supersport, 7 di Salomone, 5 di Zucca, 5 di Blerim Veliu, 5 di Tommaso Pesci che ho visto domenica sera a Tavarnelle, poi un gol di Ciarmpis, 7 di Ramanoschi, allenatore signor Matteo Pesci, babbo di Tommaso, i rigori per San Lazzaro 2 su 2, i rigori per Follonica 1 su 3, Maluccio va detto. Allora andiamo a riprendere il nostro racconto, andiamo a prendere anche quello che è il risultato di Prato battuto in casa da Campus Italia, la squadra della Federazione Italiana Pallamano, Prato con Nicotra 1, 2 di Simoni, 4 di Scrivò, 1 di Pucri, 5 di Alim Helmandi, un gol di Smeraldi, allenatore signor Luca Moro con i rigori 3 su 3. Andiamo a Campus Italia che è l'esperimento dei migliori giovani del campionato, raggruppati a Chieti, vivono e si allenano alla casa della Pallamano, una sorta di progetto futuribile, idea assolutamente ottimale, con 5 gol di Carabulea, 3 di Battaglia, 2 di Dello Vicario Giacinti, 8 di De Angelis, 1 di Fragnito, 2 di Cavo, 1 di Mazzone, 8 di Cristian Manoliovici, allenatore signor Pasquale Maione con 3 su 4 ai tiri di rigore. Allora torniamo poi per quello che sono i risultati, troviamo il big match Romagna-Cingoli, 27-28 Cingoli prosegue, tambureggiante vogliono tornare immediatamente in Serie A1. Chiaravalle-Bologna-United, 40-31 Pescara-Teramo, 17-24 Camuerano, Modula-Casagrande, 36-36 il pareggio, la classifica Santarelli-Cingoli, 16 Romagna, 14-12 per Teramo, 12 per Camerano, 10 Chiaravalle e Pescara, 7 il Pollonica che diventa la miglior squadra Toscana, 7 Verde Azzurro-Sassali, 7 il Casagrande, 6 Campus Italia-Ambra-Poggio-Cagliano, 5 per San Lazzaro, 85, 0 per il Prato-Bologna con un meno 3 punti di penalizzazione. Andiamo a vedere la 2 femminile Girone-Chi dove c'è il Tonfo del Cellini-Padova che mi perde col Marconi, 32-20, vince l'Euromed Mugello con il Mestrino, le ragazze borghigiane vincono 29-19. Le immagini tratte dalla nostra diretta, dal loro Facebook, ricordo, datemi una commentatrice e tutto sarebbe molto più bello. L'Euromed che ha schierato dall'Aigori tra i pali, Gigli, 2, Simoni, 6, Goiani, 4 di Salemme, 2 della Tubi, Incagli, 4 della Guidoni, 2 di Emma Dallai, Crescioli, 4 di Gorelli, 5 di Santoni, Matini, Zoppi, Landi, Gori, allenatore il mio amico fraterno Matteo Lucì. Queste le immagini che arrivano dalla palestra di Borgo San Lorenzo, Chiara Valle, Grosseto, lasciamo pure le immagini. 38-21 con Grosseto che ha schierato Stafuca, De Paoli 5, Giorgetti 1, Fontani, Capitani, 2 della Ica, 3 della Maccari, 5 della Serravalle, 2 della Fontani, 2 Fracchiolla, Perna 1 della Bucciantini. Mentre Camerano, Tusce Prato, Tusce che ribalta Camerano in terra di Marche, l'ora doppia, 22-42. Tusce Prato con Blai tra i pali, Bartalucci, Micotti 4, Rossi Margherita 2 gol, 2 della Gurra, 8 Borrini, la migliore dietro la Iamu, della Maggiora con 2, Nicolai con 5, Martinelli 2, Sandroni 1, Barbieri 3, Benelli, la Iamu, ne segna 11, Rossi Viola, Sacenti, Davossa 2, allenatore Maurizio Rossi, come detto Marconi Jumper, Cellini Padova 32-20, Mugello Mestrino 29-19, Chiaravalle Grosseto 38-21, Camerano Prato, Tusce 22-42, Ariosto Ferrara, Sport Insieme 40-14, la classifica Tusce Prato 10, Ariosto Ferrara 7, Mugello 6, che avrebbe 8 punti, ma poi sono comparsi 3 punti di penalità. Ho chiesto Lumi a Borgo San Lorenzo, ancora non mi hanno risposto, non che la cosa sia di preeminente importanza, ma giusto per sapere da dove arrivano i 3 punti di penalizzazione. Magari un cartellino non regolare, magari una protesta, magari non so cosa. Insomma, l'Euromed poteva essere a 8 secondi in classifica, è a 6 punti in compagnia del Cellini Padova, Marconi Jumper 5, Chiaravalle 4, Mestrino 2 col Camerano, Grosseto anche qui un punto di penalizzazione, lo sport insieme come l'Euromed Mugello, meno 3. Allora, per favore, se ci dite per quale motivo compaiono i punti di penalizzazione, ce ne facciamo una ragione, ce la facciamo lo stesso, ma giusto per doverosa informazione del perché o del per come la classifica vede, meno 1, meno 2 o meno 3. Arriviamo al campionato di Serie B regionale, ieri abbiamo dato la partita interna, la prima della stagione, il Tavarnello è tornato a giocare nella sua Biagi con molto pubblico, non in tutto esaurito perché ci sono ancora le preclusioni del Comitato Tecnico Scientifico che per gli impianti al chiuso attestano la viabilità intorno al 60%, ma comunque intanto era importante tornare in casa, tornare davanti al proprio pubblico, cominciare la striscia delle vittorie dopo la sconfitta di Mugello, dunque derby molto ostico, arrivava l'Olimpica e Massa Marittima, non c'era muoio per cui giocatore assolutamente che veniva dalle ultime due stagioni giocate da Ego Siena, il Tavarnello rimanda battuto il Massa Marittima 36 a 23, l'abbiamo data in televisione con il mio commento, ovviamente per chi non vedesse la nostra trasmissione va sul nostro canale YouTube di Firenze e Viola Super Sport con il giglio bianco rosso e viola, clicca e si guarda tutto quello che volete, dunque questa è la risultanza, andiamo con le immagini del match che abbiamo ovviamente dato in diretta, il tabellino della partita, Tavarnello e otto gol di Edoardo Borgianni, tutti quanti sette nel primo, uno ad inizio del secondo, poi Edo si è chetato, di cui uno su rigore, tre di Giacomino Pelacchi, quattro di Picciardo che è stato chiamato in causa e ha segnato appena toccato il primo pallone sul mio input e per cui bene così, ha esordito Tomi Borgianni, un under, fratellino minore di Edoardo, ha battagliato con Edo nei primi 15-20 minuti, alla fine esce con quattro gol, tre gol di Andrea Calosi, cinque di Barbarito, tre su rigore, due dell'amico Gia Sam Singh che poi sentirete nell'intervista che segue, un gol di Gianmarco Tramuto, tre di Andrea Calosi, uno di Lorenzo Calosi, uno di Nardi, per quanto riguarda il Massa Marittima, nove di un irrefrenabile Gai, bravissimo, dotato di uno smercio di destra, eccolo che va a segno, incredibile, due di Toninelli, tre di Tassone l'effervescente, quattro di Carboni, due di Ruberto, uno di Ovi, due di Cuccia, lasciamo andare le immagini, vi do i tabellini, Martiri Carrara, 16-28, Spezia Mugello United, 26-27, secondo successo di Mugello, l'unica squadra a punteggio pieno, poi abbiamo Grosseto, Medicia, Poggia Caiano, 33-29, Arrete, Bastia, Monte Carlo, 23-20, Tavarnelle, Olimpica, Massa Marittima, 36-23, queste le immagini, allora andiamo alla classifica, poi spazio alle interviste, Mugello United, quattro, un lungo tranino a due, Medicia, Spezia, Carrara, Tavarnelle, Grosseto, Libertas, La Torre, Aretè e Olimpica, Massa Marittima a due, Monte Carlo, Martiri, zero, il prossimo impegno domenica alle ore 16, Santa Maria del Monte per il match tra il Monte Carlo e il Tavarnelle, vedremo se riusciremo a raggiungere Tavarnelle se avremo una regia libera, questo è l'aggiornamento del campionato di Serie B, linea, torniamo arrotolando il film alla Biagi, i due allenatori delle due squadre e poi Jassam Singh ai nostri microfono, linea e le immagini, grazie. Il Tavarnelle è troppo alto da scalare come diceva Venditti, poi piano piano avete cominciato a carburare tutto su Gai, forse lo stesso gioco ripetuto tutte le volte, la difesa spesso e volentieri ha chiuso, avete sbagliato due rigori, il derby con il Tavarnelle è sempre un derby, noi vi seguiamo da tanti anni, siete una signora squadra ma stavolta questa serie è andata male. No, diciamo che il Tavarnelle è una signora squadra, quindi specialmente qui in casa c'è sempre da combattere, che dire, io mi aspettavo una partita molto dura, però sinceramente un parziale 9-0 così non me lo sarei aspettato, noi paghiamo... Avete trovato questo Vanni che è rientrato e ha tirato giù la strada cinesca di petizione? Sì, questo sì, io più che altro guardavo i miei, non voglio giustificazioni però siamo stati un anno e mezzo fermi e riniziare sarebbe stata dura e questa è la dimostrazione. continuo a non voler trovare scuse, avevamo anche un giocatore muoio che mancava, però ecco il risultato non rispecchia poi la squadra che siamo, stasera proprio siamo rimasti a casa, non siamo venuti a giocare a Tavarnelle. Allora l'appuntamento è a sabato prossimo, che incontrerete? La rete, Bastia. Vediamo la rete, ok, perfetto, Bastia, una nuova denominazione, miglior campionato possibile, abbiamo col presidente stabilito che proviamo a prendere il vostro Facebook e facciamo un martedì della pallamano toscana, tutti insieme appassionatamente. Grazie, buon proseguimento. Grazie, grazie. Bene, ok, allora, evaso il mister Pargelli che ovviamente non poteva che essere insoddisfatto di come è andata la gara, 9-0 all'inizio, la gara praticamente è durata nemmeno un quarto d'ora. Mister Botta Pelacchi, tranquillo come una Pasqua. Allora, ciao Matteo, buonasera. Allora, Bargelli ha tessuto le lodi di questo Tavarnelle che ha ritrovato il pubblico alla Biagi, avete sentito l'incitamento, il battimani finale a scandire gli ultimi due minuti della gara, il punteggio 36-23, forse non te l'aspettavi nemmeno te un match così. Allora, intanto ringrazio dei complimenti che mi ha fatto Simone. Loro dice che hanno giocato male, 9-0 poi anche senza muoio la gara è finita lì. Siamo partiti molto bene oggi, per fortuna, abbiamo lavorato in questi 15 giorni sugli errori fatti in Mugello ma ancora ce ne sono tantissimi perché comunque come hai visto bene abbiamo 2003-2004 e oggi ho fatto esordire Tommaso Borgiani, titolare 2004, ha fatto secondo me un partitone, un partitone grandissimo, con grande fiducia perché poi si fa errori anche lui come tutti ma con grande fiducia ha fatto veramente una partita secondo me eccezionale. Abbiamo giocato bene, il primo quarto d'ora non c'è stata partita subito, abbiamo veramente dettato i nostri tempi e le nostre regole. La regola della Biagi. La regola della Biagi. Loro avevano un'assenza importantissima, era muoio secondo me il miglior giocatore insieme a Gaia e Cianoloro e questo ci ha facilizzato sicuramente i nostri compiti. Però anche con muoio, questo tavanello del primo tempo, dei primi 15 minuti non ce n'era per niente, per nessuno comunque. Molto probabilmente. Salutando il buon muoio che avevamo visto a Siena l'anno scorso. Molto probabilmente sì e anche se dobbiamo comunque lavorare tantissimo sulla testa perché queste partite poi non dobbiamo mollare, abbiamo tanti cambi, abbiamo visto che i giovani ci stanno bene in campo anche prima squadra, devono prendere fiducia, devono acquisire diciamo tutto quello che possano fare perché sicuramente sono delle ragazze che ci possano aiutare in questo progetto e sono contento oggi, sono contento della squadra e della reazione di come si allenano in questi 15 giorni. Dopo Mugello abbiamo parlato ma anche molto tranquillamente, ti dico la verità. Ragazzi, Mugello non è una squadra, ha vinto a spesso soffrendo 27-26 per cui voglio dire. Nell'intervista mi hai fatto, mi vedi tranquillo comunque a fine partita, io lo sai, non so perdere, non mi piace perdere, però vedo che qui c'è tanto materiale e tanto lavoro da fare ma si può fare grandi cose, secondo me. E poi hai trovato un vanni stellare per i primi 20 minuti, ha abbassato la classica sada cinesca e non ce ne stavo per nessuno, poi qualche gol è entrato va bene ovviamente, quello che è, Ciani è entrato e si è reddento subito, ha parato un tiro di rigore, l'altro gli avevo indovinato tutti i tre angoli, uno preso, due falliti, per cui va bene così. I portieri oggi hanno parato e abbiamo preso 23 gol, quindi provo a prendere 18 forse, ma va bene così, sono contento, veramente Stefano sono contento anche di rivedere un po' di gente in palestra, anche se è il 60%, credo che tanta gente sia stata anche per la partita a casa, quindi bene, avanti così, ora domenica prossima andiamo a Monte Carlo in un campo per niente facile, secondo me bisogna stare attento, allenarsi bene e andare molto concentrato. Va bene, vedremo se avremo una delle due regie libere, se possiamo abbiamo promesso che quest'anno con il campionato regionale, con molte partite in Toscana, cerchiamo di fare il massimo di essere con voi anche lontano dalle muramiche, per cui buoni questi 15 giorni di lavoro, primi due punti incamerati in classifica, Tavarnelli ha suonato la carico, tutte le squadre dovranno temere questo Tavarnelli. Tavarnelli, bene, grazie Stefano, grazie a tutti. Ok Matteo, grazie, grazie a coach Botta, vieni, vieni, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Allora, l'amico Singh è uno dei senatori, una della vecchia guardia, sei entrato, hai messo subito a segno due gol nella ripresa, la tua fascia, le tue penetrazioni, questo è un gran Tavarnelli che l'ho visto questa sera. Sì, abbiamo giocato bene, l'altra squadra subito nei primi minuti si è messa sotto e poi giustamente per loro diventa molto più difficoltoso recuperare una partita, cioè diventa molto più difficile. Andare sotto 9-0 non è per nulla semplice, senza muoio, con tutto il gioco scaricato su Guy, che si è accentrato, voi avete capito, spesso e volentieri lo avete chiuso tranquillamente. Sì, loro hanno cercato di rimetterla su in qualsiasi modo, però diventa difficile quando il primo gol lo fai dopo 12 minuti, diventa tutto più complicato, quindi per noi si è messa subito in discesa. Avevate tenuto in Naftalina Vanni per caso? Il Nicolò oggi ha fatto una grande partita, è un ragazzo veramente forte, secondo me può sempre giocare così tutte le partite. Per cui va bene, così mettiamo all'archivio questo 3623 che rimane lassù, primo i due punti in classifica, andiamo a Monte Carlo, speriamo di essere con voi anche la settimana prossima. Grazie, è buon lavoro, grazie, grazie mille. Allora, che dire, dalla Biagi è tutto, aspettiamo dal Comitato Tecnico Scientifico che ci dia ha fatto il 100% per gli impianti al chiuso, 60%, avevo detto rionamento il 75% che è per gli impianti alle aperte, ma voglio dire, stiamo raccontando cose che ostacolano le società nel recepire anche i 5 euro dall'avere il palazzetto esaurito. Qui a Tavanella, di là che ci siamo noi con la televisione, ma poco conta perché la gente si è dovuta prenotare e al raggiungimento del 60% non entra più nessuno. Aspettiamo il rilascio del 100%. Io ringrazio Eric Pitton in sede di regia di questa partita. Tavanella, Batte Olimpica e Mastra Marittima, 36 a 23, che dire, buon cammino Tavanella, vi saremo accanto per tutto il campionato. Dalla Biagi, Stefano Ballerini, per il canale 196 di Tele, Firenze, Viola, Supersport e tutto. Lina alla regia, grazie e buona domenica sera. Eccoci qua, svanisco di lì, torno di qua, andiamo a completare il weekend andando a raccontare della semiprima giornata del campionato Under-17. Per il Tavanella parte anche l'avventura dell'Under-17 dopo la Yacht League giocata la settimana scorsa. Allora, due partite su quattro giocate. Follonica, Olimpica e Mastra Marittima nel derby, 27-42. Palla a mano, scuola, carperia, Fiorentina-Enbol, il derby borghigiano, 49-14. Il 5 di dicembre si giocherà Tavarnelle-Prato il 15 di gennaio, molto più in là. Spezia-Montecarlo, facile la classifica, chi vince prende due punti, Olimpica e Mastra Marittima e Scalperia 2, Follonica-Fiorentina-Enbol 0, Tavarnelle-Prato-Spezia-Montecarlo, una gara in meno. Dunque, questa è la nostra puntata di martedì 16 novembre 2021. Vi abbiamo raccontato tutto quello che è successo su tutti i parchè gommati e plastificati delle palestre dei palazzetti italiani nel campionato di palla a mano. Abbiamo cominciato a seguire di nuovo, seconda puntata, il Tavarnelle che questa volta non fallisce, batte l'Olimpica e Mastra Marittima, ma è stato un buon weekend perché con l'Olimpica e Mastra Marittima prima, col Follonica poi intercorreranno diverse mail dove metteremo a punto il martedì, diventerà il martedì della palla a mano. E se le ragazze dell'Euromed e Mugello fanno le brave, potrebbe diventare invece che un tris, un poker, sarebbe un poker assolutamente meraviglioso e vincente. Per cui aspettateci, noi arriviamo, il tempo di allesare il nostro motore, i nostri contrattini, l'accordo tra tutte le società, come gestire i promi pubblicitari per non incorrere nelle problematiche, nell'irredimento delle dirette dai Facebook o delle varie società, ma noi siamo quasi pronti, il martedì diventerà il martedì della palla a mano, senza sé e senza amata. Stefano Ballerini, la regia del canale 196 di Tele, Firenze e Viola, Super Sports, Enrico Milano in console, grazie, appuntamento a martedì prossimo.